I carabinieri della stazione di Pizzoli, comandati dal maresciallo Alessandro Silvio e coadiuvati dai colleghi di Montereale, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo classe 86 di origine albanese ma residente nella provincia di Teramo, per spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si riferiscono alla serata tra il 19 e il 20 aprile scorso, quando, nell'ambito di un controllo mirato, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati che riguardano gli stupefacenti, i carabinieri di Pizzoli hanno fermato un giovane del posto che alla loro vista ha repentinamente cambiato strada. Insospettiti dall'insolito atteggiamento, i militari hanno deciso di fermarlo per sottoporlo a dei controlli. Dalla perquisizione personale è risultato che il giovane era in possesso di una dose di cocaina, che lo stesso ha dichiarato di aver appena acquistato dall'arrestato. Immediatamente i carabinieri di Pizzoli si sono recati presso l'abitazione dell'uomo a Montereale e dalla successiva perquisizione domiciliare si sono rinvenuti ulteriori otto dosi di cocaina nascoste in un barattolo contenente riso ed occultato in cucina nella piena disponibilità di tutti i residenti dell'abitazione. La sostanza rinvenuta presentava le stesse identiche caratteristiche di confezionamento della dose rinvenuta addosso all'acquirente, e quindi è stato operato l'arresto per spaccio. La detenzione in casa di ulteriore stupefacente ha fatto sì che i militari denunciassero il Stato di Libertà all'arrestato per detenzione e fini di spaccio unitamente alla sua convivente, una giovane del posto di 22 anni. L'assuntore è stato segnalato alla Prefettura dell'Aquila come re della legge. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso l'Istituto Penitenziario dell'Aquila dal momento che annovera a suo carico numerosi precedenti specifici. Effettuata l'udienza di convalida, all'arrestato è stato vietato di soggiornare nei comuni della provincia dell'Aquila, costringendolo così a ritornare nel comune di residenza nel Terramano. L'attività svolta tra il 19 e il 20 aprile è solo l'ultima delle numerose altre già condotte in materia dalla stazione di Pizzoli, che ha fornito decisivo apporto informativo al nucleo operativo e radiomobile della compagnia dell'Aquila in occasione dell'arresto di altri soggetti trovati in possesso di 50 grammi di cocaina pronti ad essere messi nel mercato di Pizzoli, Barete, Montereale, Capitignano e tutto il circondario. È una situazione esplosiva quella che si sta registrando negli uffici speciali della ricostruzione dell'Aquila e del cratere. I contratti di dipendenti assunti con il cosiddetto concorsino sono in scadenza e potrebbero, o meglio dovrebbero, essere rinnovati ai primi del prossimo mese di maggio. Ma ciò che chiedono gli enti è di arrivare ad una proroga almeno triennale, così da poter programmare con serenità il lavoro. Ciò che preoccupa in più invece sono i 15 dipendenti a tempo indeterminato che hanno chiesto il trasferimento ad altra sede. A fare il punto è l'assessore alla ricostruzione del Comune dell'Aquila, Pietro Di Stefano. Con la legge di stabilità la continuazione di uffici speciali è stata già acquisita. Quindi da parte della legge, del governo e del Parlamento gli uffici speciali vanno avanti. Poi c'è l'aspetto pratico che è quello della copertura economica e per questo sono nate queste discussioni di un rinnovo di un anno pari alla copertura effettiva. Si potrebbe fare di più se il CIP stanziasse subito i fondi e ci portasse la copertura giuridica e economica a tre anni in modo che ci sarebbe più continuità. Credo che l'aspetto peggiore è quello del personale invece da via. Attualmente l'USRA ha 15 persone in meno su 50 di quelle che ha in dotazione che vengono dalla legge 134 e ha 15 di meno perché sono vincitori di altri concorsi. Come si potrà avviare a questa carenza? Ecco, questo è il punto. Come si potrà avviare? Si dovrebbe avviare con il rimpiazzo da parte del RIPAM ma sappiamo che questo non avviene, avviene lungo e quindi io ho sollecitato molto l'ufficio speciale a rompere ogni indugio o il RIPAM ce li dà o ce li danno altri uffici, gli danno l'ufficio polpice oppure si rivolgessero a delle agenzie, a qualcuno perché noi non possiamo attendere le lungaggi di altri che si decidano a mandare personale. Giuridicamente è possibile farlo, quindi lo si fa appunto e basta. Dobbiamo guardare alle pratiche che vanno avanti, non possiamo sempre guardarci la punta delle scarpe pensando di non farci cadere un grammo di polvere mentre vediamo che la città soffre. Ecco, io sono molto più deciso con questo e non temo alcun confronto. È un rapporto ormai viscerale quello che si è instaurato tra la città dell'Aquila e il jazz. A settembre si svolgerà la seconda edizione della rassegna che lo scorso anno richiamò nel capoluogo migliaia di persone. A fare da prologo, almeno idealmente, la giornata del 30 aprile che l'UNESCO ha dichiarato International Jazz Day che fa del diagolo interculturale e diffusione della tolleranza il proprio leitmotiv, in musica ovviamente. Messaggi che sono stati accolti dal Comune dell'Aquila e dal Comitato per Donanza che in collaborazioni con enti culturali, scuole, musicali, conservatorio e gestori dei locali hanno promosso una serie di iniziative a partire dal 28 aprile con una conferenza che farà da apripista alla giornata del 30 quando all'auditorium del parco si alterneranno sul parco scenico ragazzi delle scuole e istituzioni musicali con una serie di concerti. Un contributo che ci consente di creare quell'humus, rendere quel terreno fertile così come stiamo cercando di fare perché attecchisca questa nostra volontà di tradurre il jazz in una espressione culturale permanente in questa città grazie a quello che è stato fatto già con la prima giornata del jazz dedicata all'Aquila a settembre ci sarà la seconda edizione il 4 di settembre ci sarà la terza edizione nel 2017 dopodiché dobbiamo avere noi la capacità di camminare da soli ecco, noi stiamo cercando di gettare questo seme per fare in modo che rendendo permanente attraverso anche quest'occasione l'interesse e soprattutto un approccio culturale effettivamente possiamo creare in questo luogo, in questo territorio un hacker mess che annualmente si ripete e che pone l'Aquila al centro dell'attenzione del jazz e di tutto quello che è collegato a questa tipologia musicale che è di assoluto interesse previste anche lezioni e concerti per i neonati da 0 a 36 mesi inserata poi la musica invaderà le vie del centro storico e non solo con performance jazz in alcuni locali del centro e della periferia che hanno dato la disponibilità a ospitare la rassegna grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti